quest'oggi una piccola orchestra qua in bal troncea Matteo il direttore d'orchestra che io non dirige perché la lasciamo stare lei è la nostra percussionista, qui abbiamo il pizzerario magico e io canterò qualcosa prego maestro non ho mica fermato vai e adesso è che c'è la valanga alle nostre spalle